concrete le cose che pensiamo di più se pensi di sbagliare stai certo che sarà esattamente così l'individuo che ha un atteggiamento mentale negativo attira i problemi come una calamita attira il ferro ovviamente se sei una persona felice e positiva attirerai persone cose positive nel momento in cui ti si presentano pensieri negativi trovate subito degli altri positivi che possano sostituirli non farti paralizzare dalla paura di sbagliare è stato già detto e l'imprenditore oggi si sentono solo c'è gente che fino a qualche anno fa credeva di avere capacità di business importanti oggi invece a parità di mercato si trova a smarrire ma se fino a ieri le cose funzionano oggi perché non funzionano e possono essere sbagliare allora la voglia e la capacità di cambiare diventa ancora più difficile perché dice ma il mio modello ha funzionato no, bisogna cambiare non così che un giorno di novembre ero a Milano un'occasione del match una splendida un splendido evento feristico organizzato dalla compagnia delle offre trovai tra gli iscritti anche un po' di novembre anche il modello di Sartex di punto reddito però siccome io sono curioso di quando andai a trovare non riuscivo a incontrarci ci sentimo telefonicamente dopo tre giorni vengo a scoprire che due pazzi scatenati stavano portando avanti un discorso che io volevo conoscere allora mi vissi sulla macchina andai a via qui a Catania tra le altre cose in un periodo veramente difficile perché fattorare in caldo mancazzi di dignità tutta una serie di segnali che ci sono come provando le macchine allora dissi vabbè vado a fare un momento personale per una mia cultura personale beh in quel momento devo dire la verità che sbagliai di grosso sbagliai di grosso perché trovai delle persone in gamba in particolare mi compirono due cose su queste insenzioni una era la modalità in cui il signore Scegli Carlo spiegava così come l'ha spiegato un rapporto nella stessa identica maniera il progetto che loro stavano portando avanti e nessuno può smentirmi se dico che come lo spiega lui sicuramente ti dà una carica e ti fa prendere conto che si può fare qualcosa in maniera diversa nella seconda passiamo una cosa che mi colpì e fu invece i nostri conterranei che insieme ad altri ragazzi discutevano facevano brainstorming mi sembrava di essere più che altro dei corridoi in una società tipo Google e Google di essere vicini a parlare di cose diverse di cose nuove parlando e portandoci avanti nella nostra discussione eravamo arrivati a un punto un punto importante dovevo riavere in mano il nostro futuro il nostro futuro che come generazione ci è stata tolta non scordiamoci che stiamo attraversando solitamente un periodo che non è uguale dalla fine della seconda guerra mondiale tutte le altre generazioni hanno avuto cominti di crisi ma mai come lui stiamo attraversando oggi questo è una cosa fondamentale allora ho avuto l'intuizione di dire ok mi ci punto come va alla fine non posso perderci niente non ci sto mettendo benata la mano fondamentale posso solo spendere la mia capacità e la mia esperienza personale e professionale per portare avanti qualcosa che ancora non è definitivo perché tante cose le ho scoperte come voi oggi fondamentale non c'erano ancora nel mese di novembre questi step che sono stati aggiunti nei discussi oggi allora perché ho deciso di fare questo alla luce di quello che ci eravamo detti sicuramente per migliorare la situazione della mia e delle mie attività della mia azienda successivamente anche per poter dire di riuscire a fare squadra fare rete con altri imprenditori del nostro tessuto imprenditoriale locale non ci scordiamo che in un periodo di globalizzazione a volte la territorialità non esiste più per cui alla fine si compra si vende fuori dal circuito siciliano più si compra che si vende fuori dal circuito siciliano quindi trasferendo anche una certa ricchezza fuori dal nostro territorio allora questa è un'occasione anche per dire in maniera trasversale facciamo in conto che tra di noi restiamo questa attività voglio fare degli esempi concreti mi pare che si possa sindacare riguardo il beneficio che ne deriva dall'autorizzare una moneta complementare virtuale che ci permette di comprare senza spendere e di vendere senza soldi ma senza però indagare il cash flow anzi migliorando talmente volendo usare una metafora se io ho abito in una villetta e ho un prato mio che è stupendo e bellissimo e quello dei miei vicini invece sta buttando già ma se io in maniera indiretta non voglio i miei vicini da lì ragazzi sistematevi in prato perché il nostro quartiere sta cominciando a farlo schifo forse il quartiere ritorna a essere bello e attiriamo pure nuovi inquilini nelle pilette che possibilmente sono vuote pensi che forse sia un volo dei sedicesi diversati del 20% del mio fatturato all'interno del circuito in maniera tale da recuperare quella liquidità che questo circuito mi dà e utilizzarla soprattutto per le attività principali della mia azienda quindi acquisto merci servizi oppure ancora meglio per fare investimenti beh no abbiamo già detto abbiamo già parlato del WIR che è nato nel 1934 dall'intuizione di due imprenditori e tra le altre cose veniva fuori da un periodo storico che era quella della crisi del 29 e per la mancanza di liquidità si inventava questa cosa oggi la WIR come è stato già detto è presente in Svizzera anche con gli istituti bancari che elargisce mutui e privati per comprare case cioè non ce lo dimentichiamo certo allora la strada è lunga da fare ci sono dei meccanismi da reale ci sono degli step da inserire successivamente però tra il dire di esserci e di non esserci forse è quello di starci dentro piuttosto che vedersi passare nuovamente un altro treco che ricordiamoci il diretto locale siciliano è una delle poche novità che ci abbiamo perché poi per il resto non c'è che è tutto ingessato è tutto fermo nessuno ci dà la mano d'aiuto un giorno il mio sogno potrebbe essere quello di rivedere tutto questo realizzato nella vostra terra tra altre cose l'euro l'ingresso l'euro ci ha ulteriormente penalizzato da questo punto di vista c'è ancora gente che rendersi molto di quando si è spendendo fa l'ingresso di dire poi voglio dire non stiamo imitando niente l'abbiamo già detto il nostro concicuito che nasce dall'esperienza già di due anni di Sardex dove in due anni sono arrivati a raggiungere 450 iscrizioni tra cui se lo posso dire me lo permette che c'è anche Tiscali voglio dire se ci crede Tiscali perché non dovremmo crederci noi che non me ne vogliono gli amici di Cagliari ma da un punto di vista imprenditoriale siamo tantino un po' più evoluti scusate allora io cominciai a parlare con gli amici imprenditori cominciai a discutere anche a stuzzicare per capire quali potrebbero essere i banchi del sistema e non ero altro cioè riuscivo sempre a ricontrurre la discussione all'interno di un meccanismo leato che funzionava a livello di olio comunque il periodo pratico ci siamo quasi un esempio sotto se io domani mattina con la mia azienda andassi a comprare in tipografia i devian alla mia attività e pagassi in SAC in SIGA in SIGA in SIGA a sua volta il tipografo andrebbe non lo so dal meccanico perché bisogna farsi aggiustare il mezzo e pagherebbe anch'esso in SIGA con il credito che vanta perché io l'ho generato fondamentalmente a sua volta un meccanico avrà bisogno che ne so all'officina con un condizionatore se vogliono comprare da me perché sa che sono all'interno del circuito e compro un condizionatore abbiamo girato economia ma senza muovere un solo centesimo in euro è una cosa questa è una cosa incredibile ma facile quindi volevo chiudere con una citazione ci sono molte persone che parlano di progetti cose da fare obiettivi e poi per una cosa o per l'altra non trovano mai il tempo per portare a termine i loro progetti le spiegazioni che giustificano le corrazioni solitamente sono anche plausibili ma con il tempo diventa un'abitudine di giustificare i loro progetti le persone di successo invece accettano con gioia le responsabilità che la vita propone loro e sanno che quello che conta non sono le parole e i pensi infatti complimenti grazie Paolo grazie davvero durante questo questo incontro sono state usate spesso parole come etica cambiamento selettività e vorrei vorrei aggiungere altre parole che per noi di Sigalex sono importanti altri valori di novità ma anche quello di legalità quello di etica appunto di qualità che per noi si legano fortemente a quello che è il nostro il nostro circuito e già da oggi cioè già dal suo momento di lancio vogliamo lanciare un messaggio forte e chiaro su questi temi come ha detto Roberto Sardex come anche Sigalex si basa su quei tre pilastri anche Sigalex si basa su quei tre pilastri e si basa su questi altri pilastri che dicevo anche perché credo che senza questi pilastri in realtà poi non possa esserci neanche un reale e duraturo sviluppo pubblico da questo punto di vista io davvero sono molto onorato e mi fa molto piacere la presenza qui con noi di Vindalusso Zangara in rappresentanza dell'associazione antiestorsione di Catania proprio perché fin da subito fin da quando gli abbiamo raccontato questo progetto ha intuito ha intravisto l'etica che c'è dietro e per noi avere il supporto avere l'appoggio avere i consigli di persone come lei delle associazioni che lei rappresenta è fondamentale e quindi la ringrazio davvero per il supporto che ci ha dato e che ci darà la ringrazio per essere oggi qui e le do subito la parola grazie Carlo grazie Andrea io sarò brevissima perché non posso esprimermi per quanto riguarda il merito della questione che è stato già ovviamente ci ho detto e con novitia di particolari io soltanto mi sono posta un problema ma se io fossi il destinatario finale cioè io fossi l'imprenditore che peraltro sono se io dovessi essere allentata a partecipare a questa nuova esperienza a Catania che cosa vorrei da che cosa vorrei essere garantita che cosa non piacerebbe che fosse questo Sikadex allora mi sono preparata dieci punti che vorrei condividere con voi e naturalmente da persona che così come voi che siete qui stasera per la prima volta prendo visto questo e mi sono veramente non solo compiaciuta ma anche onorata di essere qui stasera perché potrebbe essere l'influzione di una trasformazione quando si inizia un percorso nuovo si sa che pieno di sorprese che possono esserci anche delle grosse difficoltà da superare ma è proprio per questo che bisogna nella vita credo scommettersi quando vent'anni fa quando noi abbiamo iniziato la nostra esperienza di contrapposizione frontale contro la maledita organizzata in una città come Catania venivamo visti come degli alieni in realtà oggi la situazione è completamente ribattata dunque io credo nelle novità e credo nelle novità più strane possibili allora dico immediatamente quali sono secondo me i punti sui quali dovrebbero fondarsi le situazioni allettanti per gli imprenditori ecco abbiamo un capitale sociale questo capitale sociale di questo gruppo è costituito dalle relazioni interpersonali che è stato dentro stasera quindi queste relazioni interpersonali sono fondate prima di tutto sulla reciproca fiducia sulla credibilità che ogni associato avrà nella sua professione e naturalmente dunque sulla meritocrazia che è esattamente il contrario di quello che avviene oggi a tutti i livelli l'associato come secondo punto come deve essere chi deve essere questo associato deve essere una persona affidabile se che è deficiente ma anche onesta sia nelle prestazioni che nel dare un valore al proprio servizio perché si potrebbe verificare il caso di uno che vuole anche prognare in queste cose e c'è bisogna stare attentissimi dunque Sicanx ha un compito veramente molto difficile quello di saper selezionare le persone una per una senza lasciare niente al cazzo quarto punto protezione del sistema il sistema deve imparare a produrre degli anticorpi per funzionare quindi non deve essere protetto dall'esterno ma deve potersi proteggere l'imprenditore deve essere già affermato per entrare in Sicanx e nella sua professione deve essere apprezzato anche dai suoi colleghi perché questa è una condizione fondamentale punto 5 a quale condizione l'imprenditore rispetterà gli accordi che ha preso io credo che rispetterà gli accordi se è sicuro di ricevere in cambio la stessa qualità la stessa professionalità è lo stesso impegno che lui mette quando offre il suo servizio agli altri punto 6 ogni associato deve essere garante di un po' di se stesso e degli altri come nei consorsi figli numero 7 i soggetti pericolosi da evitare perché bisogna anche guardarsi da persone pericolose che potrebbero alterare tutto il sistema chi sono i figli di papà gli arrivisti gli approfittatori e gli scaldi questi secondo me bisognerebbe vedere chi può punto 8 come rende da 3F l'ingresso in Sicanx ecco secondo me dovrebbe essere una rende al numero chiuso almeno inizialmente quindi composto dalle migliori professionalità catanesi non o no qualunque ma il migliore è il suo bravo e come selezionare questo questo è il punto 9 dovrebbero essere uno o due per categoria professionale che non devono essere più famosi assolutamente no ma devono essere giudicati eccellenti nelle loro professioni che è completamente diverso da quello che spesso accade da noi obiettivo punto 10 ultimo punto qual è l'obiettivo che bisognerebbe forsi in una situazione di questo tipo l'obiettivo secondo me è che a un certo punto gli imprenditori cominciano a fare gara per entrare ma il numero è chiuso quindi bisognerà aspettare una nuova tranche di ingresso ecco io questo penso e poi brevissimamente vorrei anche dire questo c'è un momento per tutto due anni fa però probabilmente io non sarei stata così entusiasta ma oggi veramente dopo essermi un po' documentata mi sono resa conto che non era neanche necessario andare a cercare chissà dove perché se ne sente parlare la televisione la radio dappertutto si legge sui giornali loro credo che casualmente forse hanno in questo momento cavalcato l'onda perché in America nel nord Europa si riduce l'erogazione del denaro contanti da parte delle banche Inghilterra ha sperimentato il controllo delle transazioni proprio per arginare la criminalità l'evasione fiscale e la corruzione la Gapanelli sul Corriere qualche giorno fa ha scritto che non bisognerebbe più usare il denaro in contanti ieri sera abbiamo sentito un'esperienza a report sempre della Gapanelli che raccontava del paese di Nanti in Francia di un paesino della Toscana dove i sindaci in persona hanno deciso di provare queste nuove esperienze di transazione senza i soldi il vato ha provocato ovviamente e decide addirittura di cassare i prelevamenti in contanti allora io dico questo se anche noi riuscissimo a sperimentare questa forma di barattolo non mi piace questo vocabolo ma io lo trovo affascinante potremmo tentare di invertire la rotta prediletta dalla mafia io naturalmente per quello che faccio da vent'anni ho la mafia come unico elemento destabilizzante nella nostra terra e secondo me questa potrebbe essere una vera spallata agli interessi delle critiche che oprivano la nostra economia la nostra società e che distruggono e danneggiano immediatamente il futuro dei nostri figli perché le critiche non hanno nessun interesse a entrare in un circuito pubblico e trasparente di questo tipo dunque indirettamente questo può diventare uno strumento per destabilizzare la mafia e per difendersi dalla mafia la mafia cosa fa? accumula il potere del lavoro da investire invece questa forma di baratto rappresenta è un valore condiviso quindi esattamente agli articoli nessun interesse personale potrà prevalere sugli altri dunque si tratta di una vera espressione di economia particolare grazie signori scusate che stiamo addirittura di arrivo se volete fermarvi chi vuole degli alimenti delle informazioni più specifiche parlare un po' con noi si può fermare tranquillamente dopo siamo a disposizione quindi come volete voi grazie beh abbiamo delineato abbiamo cercato di reale credo questo questo percorso questo pomeriggio credo che come era proprio percorso si tratta cercando di raccontare nel modo più semplice più semplice possibile cercando di farvi capire quali vantaggi in termini culturali etici economici sociali si porta dietro io credo che Siganex sia un progetto ma sia anche molto di più di un progetto sia un'impresa ma credo che sia anche molto di più di un'impresa per noi credo che sia una vera e propria una vera e propria missione una vera e propria missione di cambiamento di innovazione e di sviluppo per per la Sicilia a questo proposito voglio dirvi che abbiamo scelto delle frasi sul cambiamento che vi troverete magari lì nel latio della distante a questa sala e le abbiamo scelte perché magari con voi portaste oltre alle cose che ci siamo raccontate materiali che vi abbiamo lasciato anche una frase in ufficio a casa e magari una riflessione una riflessione sul cambiamento che possa spingermi magari in un percorso in un percorso diverso di avvicinamento sempre di più a quello che è il a quello che è Sicilia quindi insomma se vi va se vi toglia prendetele pure noi abbiamo lavorato su questo progetto da due anni e due anni che ci lavoriamo sopra è un progetto che credo sia uscito anche oggi rappresenti qualcosa di più ecco io credo che bisogna quantomeno avere di più io ve lo lascio e vi lascio anche oggi con questo progetto anche di più perché quando lavora tanti anni su un progetto mette tanto di se stessa nel proprio lavoro tante persone mettono tanto di se stesse nel proprio lavoro io credo che questo progetto vada e questo circuito vada trattato con grande con grande cura la cura che poi riserviamo a uno di noi perché in fondo Sigalex siamo tutti noi del circuito siamo siamo tutti noi e io spero che veramente voi dopo oggi riuscirete a a rifletterci ad approfondire poi a diffondere a promuovere questo questo messaggio a quelli che sono costellici costi clienti costi fornitori proprio per riuscire insieme a rendere questo circuito sempre più forte e sempre più numeroso su quello che poi è questa frase che mi ha che mi ha colpito molto mi stavo detto mi è stata detta proprio in Sardegna qualche qualche settimana fa cosa c'è il più bello e soprattutto dico io cosa c'è il più giusto che poter pagare qualcosa poter comprare qualcosa col proprio lavoro e io credo che questa è una una scommessa sicuramente una scommessa difficile molta gente a me a Roma a Milano o a tante o a tante signora ma perché insomma togli a Catania su alcuni su alcuni costi per portare un progetto ma chi ve lo può fare guarda in Sicilia e io credo che è una una scommessa una scommessa che voglio vincere per lo sviluppo per lo sviluppo di questa terra e io sinceramente le scommesse amo vincerle però voi mi dovete aiutare poi nel senso tutti quanti perché questa credo che sia una scommessa che se la riusciamo a vincere la riusciamo a vincere davvero tutti insieme grazie a tutti e a tutti grazie grazie grazie